la sana dirà come il nuovo bosman è presto da dire però della sentenza a quale andremo a parlare in questo video beh costitui potrebbe costituire in primis un pericoloso precedente seconda cosa potrebbe si cambiare il calcio ma andiamo a monte della situazione perché appunto negli ultimi giorni la corte giustizia dell'unione europea si è pronunciata in questa querelle tra il pro e la sani era e contro la fifa e la federcalcio belga il tutto partì nel 2014 quando la sani era firmò un trennale con la dinamo mosca perché poi denunciò il fatto che il giocatore avesse rescisso contratto senza giusta causa allora la società russa si appellò appunto alla fifa chiedendo un esercimento di 20 milioni di euro questa sentenza appunto giunge dici anni dopo e ci si appellati al discorso come si appellò anche bosman alla libera circolazione delle persone all'interno della comunità europea veniva contestato il fatto che non si vede il motivo per il quale un giocatore che sceglie di spostare la sua attività debba venire ostracizzato perché poi il giocatore firmò per lo charleroi e la fifa si mise di di traverso appunto a questo trasferimento appunto per queste pendenze per questa condotta di la sana di harra infatti poi si parlava anche di un pagamento di una multa di 10.5 milioni di euro di danni diciamo così il discorso è che anche se il tutto la faccenda non è ancora chiusa ma la corte di giustizia europea ha dato ragione alla sana di harra e a fif pro anche perché chi ha seguito il caso è di poi l'avvocato di pon che era colui appunto che seguì anche la vicenda bosman quindi che succede avendo dato ragione a fif pro e alla sana era che succede che qualora poi tutto dovesse passare dovesse tramutarsi in sentenza definitiva ogni giocatore se gli girano i maroni può cambiare autonomamente il club la squadra rescindendo il contratto senza pagare nulla in nome della libera circolazione delle persone e delle merci all'interno della comunità europea faccio esempio stupido holland dice beh non prendiamo perché giochi inghilterra e magari c'è il discorso pure con l'inghilterra appunto della brexit proprio qui però mettiamo caso i amal la mini amal vuole lasciare il barcellona lui vuole andare in inghilterra perché vuole avviare un'impresa lì vuole trasferirsi lì bene la società acquirente non dovrà pagare nulla basta che i amal e scinde il contratto e scinde al contratto e si trasferisca diciamo a zero inghilterra quantomeno a quello che sta scritto per cui si parla di rescissione del contratto senza giusta causa per poi trasferirsi in un altro club un qualcosa che toccherebbe le finanze dei club ovviamente cambierebbe radicalmente il mercato e ovviamente andrebbe a cambiare anche il mondo degli agenti perché dopo non si parla più di di prezzo di trasferimento del calciatore nessuno le scinde la sfiscia a zero se si parla di una compensazione di un pagamento a parte del giocatore di contro però è anche un modo per arricchirsi ulteriormente perché uno a prescindere può rescindere il contratto e poi giustamente al migliore offerente portati il calciatore quindi una sentenza molto dura ovviamente non è ancora non è ancora certo nulla perché ci sono altri che giudizio la federazione belga sicuramente si appellerà a questa cosa però quantomeno il primo match è contro la struttura della fifa e mette a rischio un caposaldo in primis la forza dei club che si va si fonda appunto sulla natura contrattuale sulla natura del rapporto contrattuale con il giocatore per altrimenti il giocatore diventa imprenditore di se stesso il giocatore può decidere il suo futuro senza che il club abbia un briciolo di importanza veramente un qualcosa di potenzialmente una bomba h potenzialmente un qualcosa che rivoluzionerebbe totalmente il calcio ora è da vedere se i vertici del calcio avranno la meglio perché nel senso quello dovesse fosse stata ragione insomma la corte europea verrebbe meno tutto il carrozzone cascherebbe tutto il castello o magari se poi vinciano quello dovessero perdere ovviamente quello dovessero avere ragione si manterebbe uno status quo io onestamente sono problemi di mezzo perché così come giusto che i giocatori abbiano il loro potere come anche giusto che anche il club abbiano il loro potere è inammissibile il fatto che un giocatore in nome di una libera circolazione delle persone interno di un mercato europeo possono fare bene il cattivo tempo perché quando io ti firmo un contratto sono cosciente di quello che sto firmando ok e quindi così perché mi va non posso rescindere un contratto così giusto perché mi tira non dico cosa quindi si rende ancora più viziati i calciatori se la sandia era firmato per la dinamo mosca sapeva quello che andava a firmare se c'è stato qualche problematica se ci dovesse essere qualche problematica con il club avanzavi richiesta la fifa e avanzava un procedimento ed è la fifa che poi magari agiva contro dinamo mosca così il calciatore viene messo al di sopra delle leggi quindi ok i diritti i calciatori ma ragazzi bisogna anche tutelare i diritti dei club perché qui sono fondamentalmente secondo me i club che ci fanno a perdere assolutamente i club il tutto in favore di calciatori che insieme i loro procuratori si fanno sempre più potenti perché è vero comunque che i calciatori sono gli attori principali di questo carrozzone ma anche vero che senza i club i giocatori neanche avrebbero uno stipendio senza l'introiti i calciatori non avrebbero neanche uno stipendio quindi un gioco che si morde la coda io do una prestazione tu mi paghi la prestazione ma anche vero che io ti pago perché tu mi dà la prestazione e tu mi dà la prestazione perché io ti pago no solita cosa del punto del gatto che si morde la coda staremo a vedere sono molto curioso perché ripeto questa potrebbe essere una sentenza tanto importante quanto paragonabile all'esplosione di una supernova che il calcio potrebbe seriamente cambiare fatemi sapere qui sotto i commenti la vostra impressione vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao